Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto abitini e scarpette Queens Gate Alice. L'alter scolpita con una reputazione di prodotti di alta qualità, Emanue un'era in carica, la produzione Tomoe, una cattleia nella serie Regina Blade. Editore Obi-Apan. Preverniciato modello di PVC. Scala 1. 8, altezza, circa 19 cm. Scolpito Yamakiki. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.